Io mi seguo, ho visto che non è finito, sai che ti dice un parte di gente, potete riparare qualcosa che non è buono. E di due punti, il desarrollo finanziario di Arruba non è successo come va tra il 2009 e il 2017. Ok? Ci sono dei dettagli, ma è importante, ma è molto importante, che ci sono messi un senale che sta passando con il desarrollo judicial in Arruba. Nel momento, nel 2009, che il governo, ma è che man, la sua entrata, non c'è quella, c'è la placa, c'è la placa, c'è la placa, c'è la placa, non c'è la placa, non c'è la placa, non c'è la placa, non c'è ora, non c'è la placa, non c'è la placa, quindi il governo l'arrivo, la sua principale, la sua principale, L'arrivo, la sua principale, l'arrivo, la sua principale, la sua principale, finanziare, che non ha avuto un manejo finanziario malo, ok? Non è un KB, non è un KB, non è un KB, non è un KB, quindi un punto importante, il KB è spesso, con Napoli ha fatto un protocollo, una lei, che è la lei Laft, però la lei è corruzione per un periodo, per un tempo definire. Il KB, non è un KB, per un periodo indifinibile. Uno, a Wok, che sta passando nel nostro desarrollo judicial? Non sta Wok con criminalità sui poboli, non sta Wok, il Ministro Público non sta attuale, non sta Wok che potrebbe dire mazzamalo, 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 right? che non sta in un KB, non sta in un KB, non è un KB. La sicurezza della comunità urbana. La sicurezza della comunità urbana.